Un caro, carissimo saluto a tutti quanti, oggi parliamo di Google Chrome. Ora, avete in mente quando i governi parlano di difesa, che di per sé è una cosa positiva, cioè la difesa è una cosa buona, nessun governo vi dirà faccio guerra contro qualcuno perché suonerebbe come qualcosa di stronzo. Ecco, il fatto che il governo faccia un marketing in cui si parla di difesa per fare in realtà guerra contro qualcun altro è una cosa che viene sfruttata in tante forme diverse. E Google Chrome sceglie, ma naturalmente ho fatto un'iperbole, scherzosa, e tutto quello che dirò, ovviamente voi pensatela come volete, ma io sono certo che Google la faccia solamente per il bene dei suoi utenti e non per il suo personale bene, farà una sorta di quello che viene chiamato da loro virgolettato protezione del tracciamento. Perché secondo loro i cookie possono essere portatori di sistema non proprio, diciamo così, insomma lato sicurezza non sia il massimo. E di conseguenza Google farà una sorta di roadmap in questo modo. Dal 4 di gennaio inizierà con circa un 1% degli utenti di Google Chrome che si ritroveranno disattivate in automatico tutti i cookie di terze parti e piano piano verrà ad estendere questa cosa. Inizieranno tra l'altro ad essere, come dire, prima avvisati, poi si potranno comunque riattivare fino a quando proprio moriranno. Non si potranno più utilizzare i cookie nella seconda metà del prossimo anno. E questo perché i cookie, insomma, possono essere davvero molto malevoli, pericolosi, eccetera, eccetera. Piccola nota che ovviamente, ripeto, non associatela al motivo per il quale Google ha intenzione di fare questa cosa è che all'interno di questa cosa, tra l'altro aggiungo anche una piccola nota che loro dicono anche che questa cosa, insomma, va un po' a ledere quella che è la vostra privacy. Quello che in realtà fanno i cookie, naturalmente, è fare una sorta di tracciamento, di sistema, di, come dire, di quello che tu, utente, fai e compi all'interno di un sito. Questo sistema, appunto, viene racchiuso all'interno dei cookie. Quindi, per esempio, facciamo un esempio. Quante persone, diciamo l'esempio di un e-commerce, quante persone mettono gli oggetti all'interno di un carrello, il comportamento, cioè non è mai il comportamento diretto, sparato, di Mario Rossi che fa questa cosa, però tutta una serie di comportamenti all'interno di un sito e il modo in cui questi dati vengono trattati rientrano all'interno di questo sistema dei cookie. Ora, Google vuole disattivare questa cosa qua per un po' la privacy, per la sicurezza e bla bla bla. Quello che in realtà, ovviamente, loro, o meglio, i maligni, non io, vanno a sottolineare è che, naturalmente, togliendo tutta la parte dei cookie da Chrome, automaticamente gli unici che potranno dare dei dati di tracciamento, gli unici che, tra l'altro, potranno mostrare le tipologie di modi proprio specifici di interagire con il web, sarà, ma guarda un po', solamente Google, in quanto loro già questa cosa la fanno per natura. Come faccio sempre questo esempio un po' ilare del tipo, uno cerca calziarete su Google Chrome e misteriosamente va a leggersi il Corriere della Sera e si ritrova pubblicità laterale, pubblicità laterali su tutti i vari riquadri, box, eccetera, sull'acquisto di calziarete di ogni tipo di marca possibile, ecco, questo sistema è quello, appunto, che Google Chrome fa normalmente. Ora, io non sono... Adesso, ho detto questa cosa scherzando, ci sono mille problemi lato sicurezza, io non sono uno di quelli che si preoccupa più di tot, è giusto, è sbagliato, non apro questa parentesi, perché è una parentesi molto interessante, tra l'altro, lo dico sinceramente, è una parentesi molto interessante, ma è una parentesi per la quale, lo dico, ripeto, con sincerità, a me più di tanto non me ne frega un cazzo. Quindi, nel senso che è vero che la nostra sicurezza è la cosa più importante, è vero che la nostra privacy è la cosa più importante, però è ovvio che nel momento in cui noi lavoriamo con uno strumento, tra virgolette, gratuito, è ovvio che da qualche parte questo strumento ci fa pagare il suo servizio. Quindi, siamo tra quelli che sono disposti a pagare per usare Facebook, e questa cosa di Facebook a pagamento è sempre stata una barzelletta, però adesso Facebook ti dice, perfetto, tu usi Facebook a pagamento, e io non faccio nessun tipo di tracciamento. Siete disposti a farlo? No, però l'andate avanti ad utilizzare. Tutti lo facciamo, nessuno paga, e quindi ci sarebbe da chiedersi, tu Google mi farai pagare per l'uso del browser senza sfruttare questa tipologia di tracciamento? Lo farebbero comunque? Insomma, ci aprono tutta una serie di domande, quesiti giusti, sbagliati. Infatti, il popolo bue, come dicevano i romani una volta, che siamo noi, che prendono una piccola cosa, e giustamente si fanno delle domande, ma probabilmente ci facciamo noi tutti delle domande su dei quesiti sbagliati, perché comunque, da una parte o dall'altra, chi ci dà in mano uno strumento, è comunque lo strumento di chi ce lo dà, e in qualche modo noi siamo comunque vincolati, quindi non vogliamo più usare nulla, spegniamo tutto, quanti servizi perdiamo, e allora ci rientriamo? Ci rientriamo come? Ci rientriamo e siamo sicuri di essere più furbi di altri che non fanno determinati... Insomma, diventa veramente un casino. Il povero Snowden, che ha pagato e sta pagando parecchio per quelle scelte che ha fatto, e non apro adesso la parentesi Snowden, nemmeno quella, però per dire, ha fatto una scelta di campo, e adesso si è ritrovato in una situazione insomma non proprio piacevolissima, però ripeto, non volevo arrivare qui e purtroppo invece ci sono arrivato. Comunque, quello che è la notizia ufficiale è che Google bloccherà i cookie di terze parti, quindi il prossimo anno tutti i siti internet avranno sicuramente una sorta di revisione, da questo punto di vista lato cookie, perché i cookie non possono non essere fatti, ma nello stesso tempo Google Chrome li vuole disabilitare, quindi come funzionerà questa cosa? Tutti faranno i cookie e i cookie non verranno abilitati di default su Google Chrome? Non lo sappiamo esattamente, però è interessante capire come questa cosa si svilupperà in futuro, anche perché il 2024 è assolutamente dietro l'angolo, sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate, io vi mando un grande abbraccio, vi auguro un'ottima giornata, alla prossima e ciao!